Qual è l'importanza, lo scopo e il senso della presenza della Exit qui al Micam? Ecco, dietro l'azienda Exit praticamente rappresenta una serietà di piccole e medie aziende. Quando dico serietà non perché peraltro, perché dietro la scelta di chi si iscrivono a questa associazione, a questa società di servizi praticamente, c'è anche uno scrupolo di controllare veramente che sia un prodotto Made in Italy, il vero prodotto Made in Italy. Per cui quando si presenta un marchio, un'azienda speciale come la Exit, c'è la certezza che dietro queste aziende è puro articolo Made in Italy. E questo è quello che ci fa un biettino da visita e che ci presentiamo bene nella commercializzazione per il mondo. E in questo momento hanno bisogno, oltre di questo servizio, di questa commercializzazione, hanno bisogno di fare gruppo, di fare squadra, come si dice, di essere uniti, di avere un contributo aperto di fiducia anche in collaborazione con le banche e con gli altri istituti in cui la Exit in questo momento si collabora con le altre camere di commercio della regione, per cui c'è un proficuo lavoro e grazie a questo al Presidente non lascia dire Luca Barcoli. Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale, grazie a tutti per aver guardato il nostro canale,